La trasformazione che abbiamo ottenuto. La vita per la vita attraverso Mario del Giglio. Entità non identificata. In primo luogo avete notato la trasformazione che abbiamo ottenuto sia di esposizione che di linguaggio. Quando il contatto avveniva, il mezzo era uno strumento da affinare, sia come concezione umana, sia nella fase spirituale. Era necessario perché ritrovasse se stesso. Quindi per noi è stato importante affinare la sua profonda trasformazione dallo stato umano propriamente detto e il suo intimo essere spirituale. Quando è iniziata la separazione si è notata una predisposizione a ricevere cose migliori. Quando ritorna nel buio, ritorna e riaffiora la superficie e la natura umana e in quel momento il messaggio ha dei risvolti del suo stato umano. Ci sembra doveroso dire che la trasformazione, anche se sofferta, è avvenuta anche se con fasi alterne. Era naturale che doveva avvenire con chi riceve direttamente i nostri messaggi. Pace a voi. Grazie.